Io mi sto affacciando ad un mondo che è completamente nuovo, un mondo fatto di un livello di professionalità che avevo sempre immaginato e allora per me questa è una cosa magnifica perché come modalità io ho quella di volermi circondare di persone migliori di me, perché so che soltanto in questo modo posso migliorare e meglio di loro chi c'è. Ecco oggi partecipo e lavoro con dei professionisti e questa è una garanzia di essere accompagnato dalle professionalità che sapranno consigliarmi, supportarmi, accompagnarmi in sicurezza. Posso dire soltanto che questo è l'inizio di un percorso veramente pesante, ma pesante nel senso di spostamento di roba, insomma ne vedremo delle belle se così si può dire. Grazie a tutti.